La Commissione valuterà la praticabilità di includere i rischi associati al clima e ad altri fattori ambientali nelle politiche di gestione dei rischi degli enti e di calibrare eventualmente i requisiti patrimoniali delle banche. Queste poche righe, contenute al punto 8 dell'Action Plan pubblicato dall'Unione Europea l'8 marzo, raccontano quanto Bruxelles si stia focalizzando sulla finanza sostenibile e stavolta non sono buoni propositi, si tratta di misure concrete, che avranno ricadute concrete su banche, investitori e assicurazioni. L'Action Plan dell'UE il termine sostenibilità acquisisce un significato molto più ampio. Lo dice chiaramente la Commissione nel commento a margine dell'Action Plan, banche, imprese di assicurazione e fondi pensioni possono essere esposti ai rischi connessi a uno sviluppo economico non sostenibile, secondo alcune stime, ad esempio, almeno la metà degli attivi delle banche nella zona euro sono attualmente esposti a rischi connessi ai cambiamenti climatici. Tradotto, gli investimenti soggetti all'evoluzione del clima, quindi non sostenibili a livello ambientale, hanno un rischio maggiore, quindi non sostenibili a livello finanziario. Ancora più chiaro è il legame tra cambiamenti climatici e assicurazioni, visto che le catastrofi naturali stanno rappresentando un onere sempre più consistente per le compagnie. Saranno quindi integrate le direttive MIFID 2 e ID, che riguarda le assicurazioni, per garantire, afferma la Commissione, che le preferenze in materia di sostenibilità siano tenute in considerazione nella valutazione dell'adeguatezza. L'Action Plan prevede poi che l'ESMA, l'autorità di vigilanza europea, inserisca la sostenibilità come elemento per valutare l'adeguatezza. Nell'aggiornamento delle linee guida previsto nel quarto trimestre 2018, gli obiettivi del piano l'adeguatezza non è il solo obiettivo del provvedimento, che punta a coinvolgere tutti gli attori della catena, a partire dal risparmiatore. Valutare gli impatti socio-ambientali del proprio investimento accresce la trasparenza, soprattutto nel medio-lungo termine, anche se per raggiungere tale obiettivo diventa fondamentale il ruolo dei consulenti finanziari. Saranno quindi incoraggiati i capitali rivolti alla crescita sostenibile, valutando i rischi legati ai cambiamenti climatici e al eccessivo sfruttamento di risorse. Viste le tante sfumature del termine sostenibilità, ci sarebbe il rischio di perderne l'essenza. Ecco perché l'UE intende redigere una tassonomia da proporre entro il secondo trimestre 2018, cioè un quadro di definizioni comuni. E condivise caffermi, con marchi ad hoc, cosa sia un investimento sostenibile e in base alla quale ricalibrare i requisiti patrimoniali. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Roodoo Fortnieder-Gwenwood, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare. Quanto diminuirevi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per valutare i marchi commerciali del gruppo PICT.